Allora ragazzi questo è il fuck che avevo promesso nello scorso video, vlog, l'ho fatto perché mi diverto No, non so, sembra che sto schiaffeggiando una persona E niente, ricordo che se arriviamo a 15 like carico domani verso le 5, le 4 Il tempo materiale pure di editare un video Persone che vogliono di tutti i miei, ma hanno proprio il catarro che veramente non... va bene Non riescono a trattenere proprio... Va bene, lasciamo stare, quindi arriviamo a 15 like e io porterò gioiemi di Dash Bella Salve tutti ragazzi, sono il mio amico, a tarci, benvenuti questo l'esimo video, signori perché oggi Questi sono i foglietti dove sono scritto le domande Ovviamente Devo rispondere a tutte le domande Vado per ordine, che poi l'ordine è proprio... Allora, Navgamer ci chiede Dove vivi? Quanti anni hai? Come ti chiami in futuro per arrivare a 100.000 iscritti? 100k? Allora, quanti anni hai? Dove lo dico? Dove lo dico in un prossimo video che non so che riuscirà E poi... Li porterei? Allora, porterò dopo i mille iscritti dei vlog, quando vado in giro a fare cosa? E porterò appunto dei vlog, non so come, ma li porterò No, non porterò solo gaming Tipo al vlog, quando vado in giro, tipo vado in Africa Vediamo i mammut che sono istinti Non è vero Allora, andiamo avanti Allora, cosa ho scritto qua? Allora Yon Bisca Che è un amico che siamo conosciuti su PlayStation Network E mi scrive Farai GTA Jungle Line? Sì, però mi dovete dare il tempo materiale Di comprare Tutti i cavetti maledetti Sdoppiatori, cose vai Perché sono qua veramente Non mi muovo E quindi sì, però mi dovete dare solo il tempo Poi andiamo avanti Darkvoid15 mi chiede delle domande Che adesso non ve la leggo perché non vi ricordo Sì, ho scritto solo riguardante cosa Mi chiede delle domande riguardante Mi fa delle domande riguardante Minecraft Allora Se me lo chiedi solo tu Non credo che lo porto Siamo cominciando a dire tipo Bastante nei miei iscritti Allora lo comincio a portare anche perché comunque Ho risolto il problema del lag Risolto il problema del lag E con Optifine Diciamo che è migliorato qualcosa E... Sta esplodendo Sta esplodendo tutto E... Quindi sì Se me lo chiedono in danno Lo porto Se no Porto altro Altro Allora Giriamo il foglio Che ho due Duemila fogli Eli00 Cosa ti ha fatto pensare Di aprire un canale Di poter aprire un canale? Beh La prossima è nata quando Seguivo Da tipo Quando avevo 7-8 anni Just Von No Ron E quindi dalla mia salita Proprio la passione Poi da Gabbo A tutti quanti A Frax Dread Poi da Suri A Power È nato proprio Bo Poi Vabbè Stephanie Anima E Vegas Poi altri Vi faccio l'elenco Finiamo Facciamo un video solo di questo Un attimo Che devo Poter aprire un canale L'ho sempre Voluto E' stata No Allora Facevo finta Tipo Facevo finta Di fare i video Tipo quando giocavo A fino a 14 Ai tempi E Non perché Non malissimo E Facevo finta Di sì Di aprire i pacchetti Tipo quelli Pacchetti bronzo E dove Se trovavo un bronzo Raro Sul tavolo E No Non è proprio All'ultimo Non è che all'ultimo Meno Di no Apro un canale E come viene Viene No Fortunatamente No Però va bene Lo stesso Allora Lo hai sempre voluto Sto Nel ultimo Momento Ti sei mai Scoraggiato Più o meno Però diciamo Di no Poi Aiuto Continua così Si sei grande Vabbè Ciao Arrivederci Poi Pia05 Ci crede Ci chiede Non ci crede E da quando avevi due Penso iscritti Che già ti seguivo Ora sono molto fiero di te Ti mostrerai ad un certo traguardo Sì L'ho detto Nel vlog A mille iscritti Un certo traguardo Da grande A versi di trasformare YouTube non lavoro Ma YouTube penso che sia una passione Non lavoro Perché comunque tu Vai al bar e lavori Invece no Qua stai davanti Uno schermo E registri cose Quindi non credo Che sia un lavoro Sì Perché monetizza I video non lavoro Perché pegni soldi Però lasciamo stare Forse ho finito Sì Mi sa che ho finito Oh Video Video più corto Del mio canale Siamo a 5 minuti Mi lo faccio durare tanto Vabbè Ho finito Quindi Boh Non lo so cosa posso dire Allora Dato che questo video Dura pochissimo Vi ricordo di Scrivervi al canale Dovete lasciare almeno Mille like Non è bene 10 Per un prossimo video Se arriviamo a 15 Esce il video di geometri Dash Sul canale Che è stato qualcosa Di veramente Pauroso Perché ho spaccato sedie E non taglierò la parte In cui mi sono fatto E allora niente Lasciamo Lasciamo Lasciate 10 like Al prossimo video E che sarà Probabilmente Geometry Dash E iscrivetevi al canale E Posso? Dai che è l'ultima parte Che ridete adesso Vabbè allora ragazzi Il prossimo video Sicuramente sarà Un video di geometri Dash E quindi Se arriviamo a 15 like Cerco di caricare Lo stesso domani Però A distanza di ore Perché domani mattina Alle 11 Uscirà Questo video Che per voi Oggi è 6 Io sto girando Il 6 Sera Alle 11 Meno 20 Quasi meno un quarto E uscirà Domani alle 11 Che è tipo il 7 Gennaio E il video di geometri Dash Uscirà verso Il pomeriggio Allora ragazzi Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale Dici mi piace 15 per Il video di geometri Dash Ho ripetuto 245 volte Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao a dire Scrivo che c'è